Benvenuto in questo nuovo audio. Oggi andremo a fare un esercizio molto semplice che ti aiuterà a combattere lo stress. L'esercizio dei cinque sensi. Scegli pure se ascoltare quest'audio sdraiato o seduto in un ambiente dove nessuno ti potrà disturbare per i prossimi cinque minuti. Scegli se tenere gli occhi aperti o chiusi e iniziamo. Rilassati sciogliendo tutti i tuoi muscoli partendo dai piedi alle gambe passando per il busto le spalle e la testa. Ora ascolta attentamente cinque suoni che senti nell'ambiente in cui ti trovi come il rumore delle macchine fuori dalla finestra. Il silenzio. I passi della gente. L'importante è che tu scelga cinque suoni attentamente. Poi passiamo al tatto. Ora tocca cinque cose diverse di fianco a te dove ti trovi. Ti aiuterà a metterti in contatto col presente. Ora guarda cinque cose che si trovano all'interno della stanza. Non devi far nient'altro che guardare e scegliere cinque cose. Respira. Respira molto lentamente e ripeti l'esercizio in modo tale da connetterti sempre di più col momento presente. Non hai nulla a cui pensare in questo esatto momento solo quello che ti circonda. Ciò che hai attorno è tutto ciò che è e nient'altro è al di fuori della stanza in cui ti trovi. La tua mente rallenta piano piano e lascia spazio al tuo essere in modo tale da connetterti sempre di più al momento presente. Se quest'audio ti è piaciuto iscriviti al canale e ci vediamo a un prossimo esercizio guidato. Buona giornata.